In area Vestina quello che tiene banco soprattutto sono le strade. Come sta lavorando la nuova amministrazione provinciale targata Ottavio De Martinis? Da subito ci siamo attivati, unitariamente l'ufficio tecnico, con il dirigente per fare una ricognizione di tutti gli interventi utili a rendere una viabilità sempre migliore, sempre più sicura. E' uno degli interventi più importanti che si stanno portando avanti e che continueranno nei prossimi mesi, è proprio un intervento che vedrà interessato il territorio di Penne, ma anche quello di Farindola, per arrivare fino a Rigopiano. Un intervento di qualche milione di euro con il quale si sistemeranno le strade in maniera importante e definitiva per rendere appunto questo tragitto il più sicuro possibile, un tragitto peraltro molto molto importante per tutta l'area Vestina. Ecco, un tragitto fondamentale anche per ripartire perché l'area ha bisogno di ripartire soprattutto in estate e non veder più semafori o frane o strade interrotte. Assolutamente sì, dici bene, è un intervento che si attendevano da tanti anni e che finalmente si sta portando avanti anche dei finanziamenti che sono arrivati in passato e alcuni che dovranno arrivare. Quindi c'è tanto in programma, come del resto c'è un interesse su tutte le strade provinciali del territorio vestino, dove interverremo anche con una manutenzione diciamo ordinaria ma anche straordinaria in alcuni casi. In momenti come questo e chiudiamo è difficile strappare delle promesse, ma i cittadini dell'area Vestina possono essere tranquilli nel medio e breve periodo per questa viabilità che migliora? Per quello che riguarda l'intervento di cui parlavo si è già partiti, quindi è una realtà. Per quello che riguarda invece l'area Vestina ho sempre detto che l'amministrazione dei Martini si avrebbe dato grande importanza ai territori interni e così intendo fare. Quindi è una promessa assolutamente che intendo mantenere nei prossimi anni per rendere quest'area che ritengo essere molto importante e strategica tutto quello che merita.